Allora per registrare molti tracce su OBS si va su impostazioni, poi si va su uscita, modalità di uscita si mette avanzata, su registrazioni vedete qui c'è traccia audio, ne sta registrando solo una in questo momento, voi mettete due, tre, quello che volete, dopodiché fate applica e così impostato registrerà tre tracce audio separate, dopodiché andate su uno qualsiasi dei dispositivi audio, proprietà audio avanzate, vi spostate a destra, a destra trovate tutte le tracce, questo vuol dire che ogni vostro dispositivo in questo momento così messo finirà su tutte le tracce, semplicemente dovete fare questo, ad esempio avete voce, microfono, dispositivo di cattura, fate semplicemente questo. Così uno finirà sulla traccia 1, uno sulla traccia 2 e uno sulla traccia 3, tutte le altre sono influenti, così facendo registrate succede questo, noi adesso registriamo, questo è il file che è stato appena registrato, come vedete se andiamo su traccia audio ci sono ben tre tracce audio, su ognuna delle quali ci sarà solo un dispositivo, quello che avete scelto, quindi semplicemente voi su qualsiasi software di editing video potete scegliere che tracce usare, su molti trascinando dovrebbe farvi vedere direttamente le tracce, in questo caso invece dovete prima sceglierla e poi metterla e separando riuscite ad avere tutte e tre le tracce comunque gestibili separatamente. E questo è tutto.